Noino.org, Uomini contro la violenza sulle donne, è una campagna di sensibilizzazione oltre che una community online. Volti noti dello spettacolo, dello sport, della cultura e della politica, hanno scelto di schierarsi apertamente contro la cultura del possesso e del controllo, contro il sessismo e le giustificazioni. Il progetto Noino.org nasce a Bologna, promosso dalla Fondazione del Monte, in collaborazione con l'Associazione Orlando. Questa mattina anche a Pescara si sono ritrovati in tanti per dire no alla violenza di genere. Diciamo che deve venire in campo tutti. È una vergogna che una società come quella di oggi abbia perso certi valori. È drammatico e tragico che i fenomeni di violenza, addirittura di omicidio e le donne, sia sempre più diffuso. Non passa giorno che non vi sia un fatto di cronaca nera che riguardi purtroppo negativamente le donne. Io credo che tutti noi maschi che abbiamo a cuore questa vicenda che fa purtroppo parte negativamente della nostra società devono fare qualcosa. È vero, è vero. Questo abbiamo voluto. Era il nostro intento quello di coinvolgere tanti uomini che potessero testimoniare la loro volontà di mettere la faccia contro la violenza sulle donne. Il messaggio che vogliamo mandare è che attraverso gli uomini, noi donne da tanto siamo attive su questo tema che ci tocca da vicino perché sono le donne quelle che vengono uccise anche nelle mura domestiche, ma sono gli uomini gli artefici di queste azioni. Quindi sono gli uomini che testimonieranno la loro dissociazione, si dissociano da quanti usano violenza sulle donne e quindi abbiamo chiamato tanti testimonial della regione.